Blerin Zemaili, Giorginio, Walter Gargano, Gokan Hiller e Radosevic. Forza ragazzi! E questa è la stilza dei nostri centrocampisti. E la parola la dobbiamo dare a Gokan Hiller, il nostro leone, capitano della nazionale svizzera, reduce da un grandissimo mondiale. Allora Gokan, che cosa ti sembra questo primo assaggio di stagione, questi primi giorni a Di Maro e anche a Castelvolturro? Buonasera a tutti, ciao! Allora, noi siamo arrivati due giorni fa, come solito qua in Trentino stiamo molto bene per prepararsi questa stagione. Ho visto la squadra allenato molto bene, stiamo crescendo e adesso quest'anno vogliamo veramente fare grandi cose. Io insieme a Berami e a Zemaili avete fatto un campionato del mondo straordinario, ma io vorrei chiedere a Zemaili. Grazie a tutti! Grazie a tutti.